Per rispondere ai bisogni di salute della comunità sono necessarie la collaborazione e la sinergia di numerose realtà che consentano l'evoluzione degli ambiti territoriali e sociali e l'integrazione con i distretti sociosanitari. In Veneto già nel 2016 sono stati costituiti gli ambiti territoriali del sociale. Oggi è in corso la discussione di una legge che ne rafforzi il modello, sempre a beneficio dei cittadini, per dare loro risposte più qualificate. Questi alcuni dei punti trattati e approfonditi durante l'evento di livello nazionale aperto al pubblico e rivolto in particolare ad amministrazioni ed enti del terzo settore. Mai un bisogno è solamente sanitario, solamente sociale. Ha un disagio sociale, ha una fragilità sociale, si accompagna sempre un bisogno sanitario e viceversa. Per cui il tema della integrazione sociosanitaria è come realizzarla, specie in una regione come il Veneto che ha una lunga tradizione in questo senso, è un tema di estreme grande attualità. Verona come si comporterà? Verona è il comune più grosso della nostra provincia, chiaramente il comune capofile. In questo momento abbiamo la presidenza di turno della conferenza dei sindaci di tutti i sindaci della provincia di Verona. In questo momento stiamo appunto aspettando la normativa, stiamo aspettando anche una riscrittura dei distretti sanitari, probabilmente che ci permetterà di avere un ambito territoriale e sociale in più di questo, aspetto a quelli che attualmente sono previsti dalla norma. È una grandissima opportunità di confronto perché il sistema in qualche modo dell'organizzazione dei servizi sociosanitari nei prossimi anni si evolverà, si evolverà cercando di avvicinarsi ancora di più alle esigenze della popolazione, grazie proprio alla conoscenza dei sindaci, il tutto in abbinato con quella che sarà la grande trasformazione poi di un decreto ministeriale che porta anche la sanità insieme al sociale più verso il territorio degli ospedali. Una difficile sfida che è necessario vincere per dare risposte sempre più efficaci ai cittadini. Rispondere ai bisogni di salute comunitava in questa direzione l'evoluzione degli ambiti territoriali e sociali e l'integrazione con i distretti sociosanitari, se ne è parlato questa mattina in un convegno al Teatro Ristori. Il Veneto ha già una grande tradizione nell'ambito sociosanitario. Lo Stato ora sta definendo con le regioni quali sono i livelli essenziali delle prestazioni sociali, i cosiddetti LAPS. Per la loro erogazione si stanno creando delle aggregazioni dei comuni che coincideranno con i distretti sociosanitari. Avranno una forma giuridica, un'autonomia e regoleranno i loro rapporti per fornire le prestazioni ai cittadini insieme alle aziende sociosanitarie. Questo permetterà di avere finanziamenti anche in ambito comunitario. Faciliteranno insomma la vita ai comuni e soprattutto ai pazienti che dovranno usufruire dei servizi. Quindi questo porta a un miglioramento, a un rafforzamento, a una standardizzazione, cioè a una uniformità di erogazione dei servizi in tutto il territorio del Veneto in un processo che vede come attori protagonisti i sindaci, gli enti locali che sono i titolari delle funzioni sociali in una stretta sinergia con i direttori generali delle aziende e sotto la cabina di regia della regione. Tutto questo porta a un miglioramento, a un efficientamento della macchina erogativa delle prestazioni socioassistenziali e sociali a beneficio dei cittadini. Un processo che troverà il giusto compimento entro un paio d'anni. Diciamo che nel Veneto la coincidenza di quelle che sono i comitati dei sindaci, le conferenze dei sindaci che già sono molto abituati anche in provincia di Verona a lavorare insieme renderanno comunque tutto quanto più semplice. Poi è chiaro che ci saranno dei passaggi normativi che dovranno essere comunque fatti e quindi si impiegherà un po' di tempo.